Naufragio con pochi attenuanti del aree canatese che cede l'intera posta ad un Castelfidardo, Avila a sfruttare le evidenti lacune dei padroni di casa, apparsi inaspettatamente, spenti e quasi demoralizzati. Mancavano rapero, mordini e sbaffo, ma anche con il Fossombrone c'erano problemi. Stavolta in 90 minuti la compagine di Filippi non è riuscita a costruire nemmeno lo straccio di una palla goal, palesando Belluscia a parte una pochezza imbarazzante. Il castello ha fatto il suo senza strafare, ma con l'ordine di razziocinio che lo caratterizza. E la partita onestamente non ha avuto storia e non ha mai dato la sensazione di poter avere un esito diverso. Legittimamente soddisfatto Marco Giulio Dori per una vittoria che vale tanto oro quanto pesa. La squadra ha risposto benissimo sul campo perché già dal primo minuto abbiamo avuto un'occasione importante con Bragoni e poi siamo passati meritatamente in vantaggio. Abbiamo sfiorato il secondo gol su un'azione con Codugno che c'è stato un salvataggio proprio al limite di Bellusci perciò la partita l'avevamo fatta benissimo senza rischiare nulla praticamente perché se vado a vedere i tiri in porta del Recanati sinceramente non sono stati perciò questo è un giusto premio per la squadra per come lavora durante la settimana. 90 minuti non avete concesso nulla al di là delle lacune che sono evidenti della Recanatese. Io non parlo della Recanatese parlo dei meriti della mia squadra che ha fatto ha fatto molto bene logicamente abbiamo fatto una partita come dicevi Pocanzi ordinata pulita sempre attenti e la cosa era più importante che ho chiesto questo proprio questa cosa l'attenzione perché tante partite insomma così ce l'avevamo fatte sfuggire di mano proprio negli ultimi minuti era una questione di concentrazione come dicevo i ragazzi anche in settimana in questa categoria non te lo puoi permettere e oggi hanno risposto benissimo perciò complimenti ai ragazzi. Bella risposta no dopo la partita con l'Atletico Ascoli poco fortunata per mille motivi. Ma io logicamente la maggior parte delle persone no giudica sempre il risultato no ma in questo caso il sottoscritto da allenatore deve giudicare la prestazione la prestazione c'era stata secondo me la strada era quella giusta e oggi l'abbiamo ridimostrato perché la prestazione è stata importante abbiamo capitalizzato al massimo quello che abbiamo creato e potevamo anche arrodondare però abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. La lotta per la salvezza era e resta una tonnara praticamente però questo è ossigeno puro tra l'altro domenica avete una partita importante come quella di oggi con il notaresco. Ogni partita è una storia a sé non c'è nulla di scritto questo sta a significare il campionato è molto molto livellato verso l'alto logicamente e di conseguenza ogni partita devi giocarla al massimo sotto tutti i punti di vista tecnico dattico e mentale. Prima frazione a senso unico con i paroni di casa non pervenuti in avanti al Castelfidardo a menare le danze. Subito Nana Pera approfitta di un pasticcio tra il portiere Bellusci appoggia Braconi che spara fuori da posizione defilata. Al dodicesimo il vantaggio l'azione scaturisce da un tiro di Cotugno ribattuto sulla destra si fa largo Baldini assist a Nana Peredi il nigeriano non si fa pregare e batte del bello in diagonale. Totalmente sterile in attacco i giallorossi immacinano un gioco improduttivo il castello dal canto suo è sempre sul chi vive al 26esimo azione di Braconi Bellusci non lo molla tiro deviato che lambisce il montante e solo angolo. Ci pensa poi lo svagato Gomez a regalare un pallone sanguinoso a Cotugno che si senta solo davanti al portiere e ci mette una pezza provvidenziale Bellusci che salva letteralmente la sua porta. La musica non cambia nella ripresa al diciassettesimo su rimessa laterale di Morganti Braconi si costruisce un tiro bloccato a terra da del bello. Entra l'attesissimo sbaffo la supremazia territoriale dei leopardiani è schiacciante ma canonici già monito becca un altro giallo e lascia i suoi in dieci. La pietra tombale al trentatresimo la mette del bello con uno sciagurato passaggio sul quale d'angelo dorme interviene Baldini che serve Caprari al quale non resta altro che appoggiare in rete. Il match di sbaffo dura appena dieci minuti e viene sostituito da Valleia. Rassegnata al peggio e con immorale sotto i tacchi la re canatese subisce il trisco con un tiro al volo facile e facile di Miotto su cross dalla sinistra. Si sarebbe potuti andare avanti all'infinito ma il trantran non sarebbe cambiato. Ossigeno puro per il Castelfidardo che aggancia la re canatese a quota 9 ma con uno stato d'animo totalmente diverso. La nuova involuzione dei giallorossi non può non allarmare ed è doveroso intervenire adesso che sia ancora in tempo Filippi con grande onestà non accampa giustificazioni. Ma non ci sono attenuanti neanche scuse. Chiedo scusa a tutti i tifosi società per la prestazione per quello che abbiamo fatto vedere quindi è tutto negativo. Le colpe sono le mie, responsabilità è sempre la mia. Mi aspettavo più una partita di cuore oltre che tecnico-tattica che non voglio neanche parlare però mi assumo tutte le responsabilità di quello che è successo. Chiedo ancora scusa alla proprietà e ai tifosi per la prestazione indecorosa che abbiamo dato e faccio il complimento al Castelfidardo.